guardalina ci siamo allora amore ci siamo via siamo arrivati al giorno fatidico mi fa emozionare come stai bene emozionata mi è piaciuto tantissimo voi siete top come una famiglia veramente ma noi lo diciamo sempre che le nostre spose entrano a far parte della nostra family sposa maderna family e te claudio amici noi amici siamo voi amici perché lei è amicino e noi è amicino e siete stati meravigliosi l'ho fatto un bellissimo percorso insieme è vero è vero stai sempre accanto sempre ma per te l'amare a tutte anche la scelta è stata rapida la scelta è stata rapida e pulmia ma non ricordi la mattina con i tacchi dell'azia perché barbara non porta tacchi arriva l'azia panchettina esatto però è non vedevo l'ora di ripetermelo perché è meraviglioso è è indescrivibile veramente la rendi rendi unica davvero rendi più unica ogni persona senti ci riesci a diritti e allora oggi la barbara e claudio si sposano grazie tantissimi amori e non si sposano sempre meravigliosi e oggi si sposano la barbara ciao a tutti ciao